Nell'anno 800 esiste di nuovo un grande imperatore per l'Europa, il primo dopo la caduta dell'impero romano ed è importante ricordarlo oggi perché in qualche modo lì nasce l'Europa moderna e soprattutto dopo la morte dell'imperatore, dopo la dissoluzione della sua famiglia, nascono i primi nuclei degli stati europei ed è ancora quello il modello al quale geograficamente e politicamente l'Europa si ispira. Un progetto unitario, quello di Carlo Magno, che oggi vediamo messo di nuovo in discussione con le attuali vicende politiche ed è un punto di riferimento, questo fatto storico vi è più in vigilia delle elezioni europee per ricordare quello che può succedere quando non si crede più nell'unità del progetto europeo, rimane soltanto la dissoluzione.